Ciao! Di solito non pubblico post per la festa della mamma, ma in casa Roberts ci piace festeggiare le occasioni speciali il più a lungo possibile, tipo il compleanno per una settimana. Forte, no? Anzi, quello di Chelsea dura un mese intero. Comunque, mamma, grazie. Per essere la persona più simpatica del mondo e per non vergognarti di non saper raccontare le barzellette. Grazie per averci insegnato ad andare in bici, a riconoscere le costellazioni e a mettere il dentifricio sulle punture d'insetto. Così non prudono. Grazie per non arrabbiarti quando frugo nel tuo armadio per prendere in prestito un vestito. Delle storie che mi raccontavi prima di dormire quando ero piccola e per recitarle con le dita truccate da pupazzi per ore. E per spingermi ancora adesso a farlo con le mie sorelle. Anche se sono stanca e nervosa, è una cosa che mi rallegra sempre. Grazie per avermi lasciato fare confusione in cucina mentre provavo nuove ricette e per aver sempre assaggiato tutto con sprezzo del pericolo. Grazie per averci lasciato vivere l'infanzia. E grazie per averci lasciato tenere i cuccioli che ci ha regalato la nonna pur sapendo che c'era un gatto. Grazie per averci insegnato che si può sbagliare ma che domani è sempre un altro giorno e che i miei sogni e le aspirazioni non sono mai troppo grandi perché la vita è grande. Mamma, grazie perché ci avvolgi tutti i giorni qualunque cosa accada nel tuo mantello caldo e pieno d'amore. Ti voglio bene. Pace. Ok, ci sei? Sì. Bravissima. Ciao a tutti. Ciao Chelsea. Ciao Barbie. Ciao a tutti. Forse non tutti sanno che io e Chelsea abbiamo davvero un legame speciale. Abbiamo molte cose in comune noi due. Come sapete noi siamo quattro sorelle. Io sono l'unica che è nata a Malibu. Veniamo dal Wisconsin dove siamo nate io, Stacy e Skipper. Parliamo di Skipper. A Skipper piace molto essere creativa, tipo musica e film. E Stacy? Sono sicura che Stacy parteciperà alle Olimpiadi un giorno. È proprio nata per lo sport e fa scipa alla volo. Io e Chelsea invece siamo famose per la fantasia. Noi sogniamo in grande. Perché no, dopo tutto? Ad esempio, perché non fare la ballerina e l'astronauta come me e Jamison? Oppure giochiamo a esse vero. Esatto. E se diventassi ballerina e astronauta e magari fossi anche... Sirena! Sì, che cosa succederebbe? Andremo sulla luna e metteremo in scena un musical sott'acqua. Sì, ma sotto l'acqua speciale della luna dove tutti luccicano come lanterne d'argento e tutto avrebbe il gusto di lamponi. Io adoro i lamponi. Oh, Barbie mi leggeva sempre delle storie e così ho imparato a usare la fantasia. No, Chelsea, per me tu sei nata con la capacità di fantasticare. Non penso che abbia imparato da me. Comunque, adesso è lei che mi legge le storie. Ad esempio... Dreamtopia! Oggi mi piacerebbe tanto che Chelsea vi parlasse un po' di Dreamtopia. È un posto incredibile e magico dove si possono vivere mille avventure. Io ci vado molto spesso usando la mia fantasia. Ci sono tanti arcobaleni, scintillanti bacchette magiche, unicorni e ricci che fanno i parrucchiari. E poi c'è la foresta briosa, un mondo dove hanno tutti i splendidi capelli lunghi. Li hanno persino gli animali e gli alberi. E il regno delle pietre preziose. E tu sei sempre là. Veramente? Dai che lo sai. Sono una regina dei lustrini? Ma solo quando sei nel regno delle pietre preziose. Però... E non sei ancora molto brava con la magia. Stai imparando. E poi c'è il regno delle caramelle dove tutto è fatto di dolciumi. Gli abitanti del posto sono creativi e si divertono molto a costruire cose. Giusto? Giusto! Lì sei una vera fata! E poi il regno dell'arcobaleno! Lì sei una regina! La regina dell'arcobaleno! Facciamo sempre skateboard sugli arcobaleni! A me piace moltissimo! Visto ragazzi, che incredibile fantasia abbiamo io e Chelsea! Grazie! Il bello della fantasia è che si può fare qualsiasi cosa ovunque si voglia! Non vedo l'ora che Chelsea vi racconti delle altre storie. E ho ancora un sacco! Oh, tienile per la prossima volta, ok? Certo! Perfetto! Pronta? Peace! Ciao! Sapete cosa mi piace di questo periodo dell'anno? Il fatto che usciamo tutti dal letargo invernale e ricominciamo a raccontare nuove storie con il nostro stile personale. Esatto! È il momento delle grandi riviste patinate e delle meravigliose sfilate di moda ricche di eleganza. Ecco alcune tendenze che mi piacciono molto. I miei amici Robert, Judy e Carlyle hanno fatto questi bozzetti. Le righe. Ci sono delle proposte fantastiche con le righe. Alla mia amica Maria non piace molto combinare le fantasie, ma per questa stagione io sono a favore dei mix più audaci tra righe e fantasie. Non preoccupatevi e fate ogni tipo di abbinamento. E i fiori continuano a fare tendenza, il che mi rende felice. Ho visto alcune fantasie floreali meravigliose e motivi a fiori usati anche sulle scarpe e sulle borsette. Anche qui mixate tutto. Lo stile bohemian va avanti. Adoro le gonne e i vestiti lunghi. Alcuni modelli sono più attillati, altri più larghi. A me piace abbinarli a scarpe, top e accessori di stile diverso. Adoro osare. Fra tutti il mio preferito per la primavera è il buon vecchio giubbotto di jeans. Sapete, adoro sfogliare le riviste di moda in questo periodo. Lo stile, le fotografie, sono tutte delle fonti di ispirazione. Ma, alla fine dei conti, la moda più importante è quella che sentite giusta per voi. Lo stile è personale. Siate voi stesse. Con coraggio. Pace. Ehi, ditemi quello che pensate delle ultime novità. Ciao. Oggi vorrei rendere un tributo ai papà e ad aiutarmi c'è... Harper! Harper, ritorna qui! Beh, grazie di avermi invitata, Barbie. Dunque, i nostri papà sono i migliori papà della storia. È vero. Del mondo. Numeri uno. Il top. Di meglio non c'è. Nessuno. Sono forti. Sì. Simpatici. Tanto. Inizia tu. Ok. Parliamo un attimo delle loro battutine. Oh, mamma. Che cos'è un gruppo di gatti? Una mia ontagna. Oh, no. L'ha detta stamattina. Non devi ridere. Così si sente incoraggiato e non smette più. Una mia ontagna. Oh, no. Harper. Ok, seriamente. Beh, era sempre mio padre a svegliarsi di notte quando non riuscivamo a dormire. Mi ricordo molto bene di quella volta in cui avevo fatto un brutto sogno. Ebbene, lui ha improvvisato una merenda con l'ora del tè in camera insieme a tutti i miei peluche preferiti. Non ricordo nemmeno cosa avevo sognato. Ricordo sempre e soltanto l'ora del tè. No. Mio padre era nell'esercito, per cui abbiamo girato molto. Lui ci leggeva sempre delle storie, oppure si inventava delle avventure nelle quali... Io e mio fratello conoscevamo sempre degli amici nuovi. Forse è per questo che mi sento così coraggiosa. Papà diceva, Harper, tu puoi scrivere la tua storia e fare tutto quello che vuoi. Mi ha anche regalato i miei primi acquerelli quando avevo cinque anni. Sei coraggiosa? Cosa? Con tutte le scuole che hai cambiato, sarà stata dura, no? Non lo so, avevo sempre i genitori a sostenermi ed ero sicura che ce l'avrei fatta. Forte. Sì? Cosa mi fai commuovere, Barbie? Ah, niente lacrime. Ai nostri papà. Che ci spingono a batterci per gli altri. Sì, e che ci consolano quando prendiamo un brutto voto. Che apprezzano le nostre poesie, anche se non sono il massimo. Che giocano alle bambole con noi. Che giocano anche con noi. Che ci fanno sentire artisti. E scienziati. Che amano cani e gatti. E la mia iguana, Stanley. Stanley! Stanley! Per la vittoria! Questo è il ballo dei papà. Ovviamente. Bene, scriveteci i ricordi che avete del vostro papà. Sì, scriveteli nei commenti. Pace! Sì, solo un... Solo un secondo. Prima devo... Cosa? No. Tutto bene, a parte il dramma in corso. Beh, non è proprio un dramma. È che Ken vuole che io vada con lui al Chili Festival, ma gli ho detto che devo fare da babysitter. Poi Nikki ha promesso di sostituirmi e Renee insiste perché io ci vada. Ho la sensazione che ci sia sotto qualcos'altro. Mi spiego? Ma si sa, le amiche devono sempre dire quello che pensano su ogni cosa. Comunque, oggi avevo in programma di seguire il tipico rituale del mattino, ma da quello che vedo ho paura che non riuscirò a entrare in bagno per un po' di tempo. Le sorelle, come al solito. Allora, quando mi sveglio al mattino, prima di controllare il telefono, di lavarmi e di vestirmi, io medito. Così mantengo la concentrazione per tutta la giornata. Dunque, prima cerco un posto comodo dove sedermi. Dopo faccio un bel respiro profondo con il naso e poi espiro dalla bocca. In questo modo mi rilasso e mi concentro. Respirare. Uno, due, tre. Espirare. Uno, due, tre. Bisogna percepire l'aria che entra e pervade i polmoni. Concentrarsi sulla pausa prima di espellere lentamente l'aria. Resto concentrata. Senza distrarmi. Credo che la chiave della meditazione stia in quella che chiamano pratica. Non ci sono grandi cose da fare. Basta saper rallentare il ritmo e si può meditare tutti i giorni. Ma tra le varie condizioni mentali, ce n'è una in cui la mente non riesce a smettere di pensare a questioni tipo se sia il caso o meno di andare al Cili Festival. Solo che non si può impedire alla mente di pensare e per cui basta lasciar vagare i pensieri come nuvole. Io medito ogni mattina per dieci minuti per evitare di buttarmi a capofitto nella giornata. La meditazione mi regala uno spazio di tranquillità, un momento di distacco. Io... Oh, forse ora tocca a me. Speriamo. Pace! È mio, è mio, è mio, è mio! Oh, accidenti! Accidenti! Allora, lo dico. È da un po' che ce la state chiedendo. E finalmente... La sfida delle pappe per bebè! Secondo le mie regole, ok? Sì, va bene. Per ogni boccone dovrai tenere gli occhi chiusi. Gli occhi chiusi. Ok. Mi posso fidare? E poi dobbiamo scambiarci di posto, ok? Come? Dobbiamo... Fidati! È tutto molto strano, Ken. Mangerai cibo per bebè? Lo so che è strano. Su, dai, andiamo. Sì, ma sei troppo impaziente. Hai in mente qualcosa? Prima di tutto... Perché lo sai che sarai tu a mangiare vero? No, 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 sarai tu l'assaggiatrice. No, 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 no. Non credo che avrò bisogno di assaggiare nessuna di queste pappe. Già. Ci hai provato. Oh, che schifo. È viscida. Sembra tipo una zucchina, una melanzana, una roba simile. Sarà dura per te, perché questa era solo alla banana, e tu le mangi tutti i giorni. Banana zucchina, forse. Secondo me, questo lo indovini subito. Se è solo... Ok. Occhi chiusi, sono pronta. Scusa. Cosa fai? Non riuscivo a centrare la bocca. Come non riuscivi? Carote, facile. Facile. Le carote sono facili, ok? Ecco la terza. Chiudi gli occhi, chiudi gli occhi, per favore. E... Ecco, arrivo. Ci sei? Allora? Ecco, assaggia questo. Scusa. Oh, è un po' gommoso. Tofu. Tu daresti del tofu a un bebè? Sono uova sode, ma solo l'albume. Oh, che carino. Sai che a me piace solo l'albume. Questa non la indovinerai mai, lo so. È una cosa... speciale. Ok. Parlando di cibo. Sono pronta. Ok, ok, ok. Apri bene. D'accordo. Bene. Mi prendi in giro? È la mia torta preferita, la Red Velvet. No, no, Barbie. È la torta di compleanno. Cosa? Cosa è? 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 Non te l'aspettavi, vero? Ok. Esprimi un desiderio. Sono troppo belli. Cosa vuoi fare per il tuo compleanno? Beh, vi dirò, ci ho pensato a lungo ed ecco quello che ho deciso di fare. Vorrei iniziare la sfida dell'empatia. Provate ogni giorno a compiere un gesto di gentilezza. Che so, un complimento a uno sconosciuto. Dite a un amico che vi rende felice. Aiutate le vostre sorelle a riordinare. Fate ridere qualcuno. Condividete l'ombrello. Lavate i piatti anche se non tocca a voi. Dite a un'amica che ha dei bei capelli. Regalate un fiore a uno sconosciuto. Provate a offrire alla signora donna l'un cupcake. È la nostra vicina. Se qualcuno vi fa arrabbiare prima di reagire pensate a quello che sta provando. Insomma, mettetevi nei suoi panni. Non vedo l'ora che questa sfida inizi. Peace! Ciao ragazzi! Dunque, mia madre dice sempre che l'immaginazione è il nostro superpotere. E mio padre dice che sentiamo Luzzi. Lo ripeto, Luzzi. Quando proviamo il bisogno di esprimerci ma non sappiamo bene come, si fa così. Chiedete a parenti e amici di scrivere delle parole su dei foglietti. Poi metteteli tutti in una ciotola. Servono verbi, aggettivi e nomi. Ognuno deve pescare quattro bigliettini diversi e usare le quattro parole estratte per inventare l'inizio di una storia. E poi a turno ognuno può continuarla. Ok, inizio io. Le mie prime quattro parole sono mela, cadere, taco e sognare. Mia sorella Chelsea l'altra notte ha sognato che stava mangiando una mela taco mentre ruzzolava da uno scivolo di nuvole. Ok, un'altra. Ora che ci penso, sapete cosa? Mi serve una sorella. La super impegnata skipper. E vai! Due parole sono casù, limonata, costruire e curioso. Eravamo rimaste con Chelsea che cadeva dallo scivolo di nuvole. E ovviamente una sirena curiosa mentre beveva la limonata è venuta in superficie suonando un casù. Fatto di petali di fiori. Boom! Fatto? Sì, oh, non mi dire, costruito? Adesso tocca a me. Ok, allora, cerchio, aria, correre, auto. Cerchio, aria, correre, auto. Ahm, che cosa fai? Chiese la sirena curiosa. Mangio una mela taco, rispose Chelsea. E tu come fai a essere capace di nuotare a mezz'aria? E la sirena nuotò in cerchio senza smettere di correre e le spiegò di essere una sirena magica. Dopodiché lei, ahm, costruì un'auto che apparve sospesa in aria suonando il casù magico. Lo diede a Chelsea dicendo con quest'auto potrai volare anche tu. Wow, veramente notevole. Beh, mi hai costretta, ma mi sono divertita. Mi fa piacere. Ti ringrazio. Sai, ricordava un po' le storie che vi raccontate sempre tu e Chelsea? Sì, quelle di Trinitopia. Hai ragione, assolutamente. Adesso vogliamo coinvolgere anche voi. Vi daremo alcune parole con cui iniziare una storia che terminerò io nel prossimo post. Ok, eccole qui. Cucciolo. Saltare. Cappello. Non vedo l'ora di leggere le vostre frasi. Pace! Ehi, diciamo che oggi è una giornata no. La questione è che oggi mi sento... ecco, sono nervosa. E non so perché, non c'è motivo, e la cosa mi nervosisce ancora di più. Di fatto mi sento... irritabile. Già, queste giornate sono difficili. Mi chiedo se è perché sono stata sveglia tutta la notte a scrivere la ricerca di storia. Ok. Prima di tutto, non intendo stare troppo male per questo. È una giornata storta. Niente di male, vorrà dire che passerà. So che i miei mi vogliono bene lo stesso, anche se sono nervosa, e lo stesso vale per gli amici. Lo sanno che li adoro. Secondo, faccio un bel respiro. Profondo. Mi aiuta sempre. E terzo, penso che ascolterò un po' di musica. E disegnerò. No, scriverò. Magari una poesia. Oppure una storia per Chelsea, che parla di tre sirene. E di un simpatico lama, di nome Chelsea, che adora i cupcake. No. Sapete cosa? Lavorerò al mio videogame. Ho scelto il linguaggio di programmazione CPU, e devo dire che è un po' complicato. Però mi piace. Quando mi sento così, ho bisogno di star sola. liberare la mente, fantasticare e creare. Visto? Adesso mi sento già meno nervosa. Fa bene anche parlarne. E domani, dopo una bella dormita, arriverà un altro giorno, pieno di sorprese e di avventure. Ragazzi, non vedo l'ora di mostrarvi il mio videogame. Grazie. Pace. Ciao ragazzi. Come state? Beh, vi confesso che oggi ho voglia di ridere, e la sfida dei sussurri sembra essere il modo più divertente per raggiungere questo obiettivo. Ho anche pensato di invitare un ospite speciale che mi darà una mano in questa sfida così particolare. e ecco a voi! Ah! Ken! È una vita che mi chiedete di invitarlo sul vlog e finalmente eccolo qui! Ta-da! Ciao! A grande richiesta! Ma credevo avremmo fatto la sfida delle pappe per bebè. No, quella non la voglio più fare. Invece mi saprà proprio che è tempo di riparla. No, 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 faremo la sfida dei sussurri. La sfida dei sussurri. Confermo, facciamo la sfida dei sussurri. La sfida delle pappe. Ken, spiega le regole al nostro pubblico. E dunque... Spiega le regole, forse le sanno già. Va bene, io mi metterò le cuffie con la musica a tutto volume. Lei sussurrerà qualcosa e io dovrò indovinare cosa ha detto. Ecco, è semplice. Cominciamo. La, 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 la. Come va? Mi senti? Non ti sento, no. Riesci a sentirmi? Cosa? Ok, perfetto. Melodico. È di zinco. C'entra con il canto? Il canto di lupo. E lo zinco? Cantalupo? Sì! Sì, cantalupo! Un cantalupo melodico di zinco, eh? No. Non ne ho idea. La musica è alta. Pronta? No, 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 no. Ok. I biscotti al cioccolato sono i miei preferiti. Le praline salate sono le tue preferite. Oh, è più probabile che tu abbia detto che i biscotti al cioccolato sono i tuoi preferiti. Esatto, perché tu mi... Mi diverto a giocare con i cuccioli. Ti diverti a contare gli... spiccioli. Ma in realtà è vero. A giocare con i cuccioli! A giocare con i cuccioli! Tu... Ti diverti, giusto? Sì, esatto! Esatto! Era ovvio. Ken è il ragazzo più simpatico del mondo. Cosa? Puoi ripetere? Ok. Oh, oh, ho capito! Barbie è la ragazza più simpatica del mondo. È esattamente quello che avevo detto. Sì, ho indovinato! Peccato che ho detto Ken. Ken è il ragazzo più simpatico del mondo. Mi dispiace, non ti sento. Lo so che tu... Io ho capito che era Barbie. Ma il pubblico ha sentito di sicuro. Io ho capito che era Barbie. Quello che avevo detto era... Perché qui non sento niente. Facciamo una pizza. Partiamo per Nizza? Sì, sì, ci sei andato vicino. Facciamo una pizza. Giochiamo alla pizza. Mangiamo una pizza. Ordiniamo una pizza. Prendiamo una pizza. Voglio una pizza. Muoio di fame. Ci sei quasi? Facciamo una pizza! Giusto? Vanno bene anche le altre cose che hai detto? Non ti sento. Cadono caramelle gommose dal cielo. Ridono a crepapelle gioiose sul melo? Sì, ci sei quasi. So, serio? Ci sei andata vicino. Indovina... No. Oh. Le comete? Com... no. Perché le comete cadono dal cielo? Beh, tecnicamente non cadono dal cielo, ma... Cadono caramelle gommose dal cielo. Yeah! Sai dove si trova il succo? Se so come si fa un trucco. Certo che lo so. Giocando con te lo so. Se so che cos'è il succo. Cosa? Quasi. Hai indovinato più o meno. Io non ho. Tu cambi. Avevo indovinato la prima volta. Più o meno. Ho voglia di fare la sfida delle pappe per bebè. Ho voglia di caviale. La sfida delle pappe per bebè. Oh, no! È quella che preferisco. Ma non riesci a pensare ad altro. Ok, va bene. Ma questa volta assaggi tu, sia chiaro. No, no, io ti invocco. No, 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 io ho già fatto l'assaggiatrice. Lo so che possiamo farla ancora. Io sono brava nella sfida delle pappe, ma nessuno sa come te la cavi tu. Allora mangerò io. Capito? Avete sentito? Farò la sfida. Grazie, Ken. Di nulla. Oh, Pace. Ciao. Dunque, le mie sorelle e i miei amici mi hanno chiesto di fare un vlog sulle scuse. Perché su questo argomento mi sono fatta qualche idea. Per prima cosa, ad esempio, penso che molta gente chieda scusa senza crederci. Ma c'è un problema ancora più grande riguardo le scuse, diffuso specialmente tra le ragazze. Noi ci scusiamo spesso, cioè molto spesso. Tipo un riflesso involontario, come se qualsiasi cosa sbagliata fosse colpa nostra. Qualcuno in strada ci viene addosso e noi diciamo, scusi, andiamo al ristorante e ci servono un piatto freddo e noi subito, scusi, potrebbe farlo riscaldare un pochino. Spesso noi ci entusiasmiamo per qualcosa che ci piace un sacco e subito dopo chiediamo scusa. Come se avessimo paura di aver esagerato. Persino se siamo tristi chiediamo scusa per paura di far dispiacere a chi ci sta intorno. Forse abbiamo paura di offendere gli altri, ma non dovremmo. Voglio dire, è molto importante cercare di essere gentili, premurosi, educati e pronti a chiedere sinceramente scusa quando facciamo qualche cosa di sbagliato. Ma scusi, è un riflesso condizionato e tutte le volte che ci succede perdiamo un po' di fiducia in noi stessi. Per cui ho sfidato le mie amiche e le mie sorelle a passare un'intera giornata senza chiedere scusa. È stata dura, non credo che si siano rese conto di quanto spesso lo dicano, ma oggi passerò alla fase successiva della sfida. Se vi sentite tristi, al posto di chiedere scusa dite grazie per comprendere come mi sento. Se al ristorante il piatto è freddo dite le sarei grata se me lo facesse riscaldare. Se qualcuno vi viene addosso dite oh, non è niente e sorridete. Ha decisamente molta più forza un grazie detto bene di uno scusi. Cambia completamente tutte le dinamiche, tanto che lo potete sentire quando lo fate. Vi invito a fare attenzione a quante sono le volte in cui domandate scusa, in modo che proviate a cambiare. Vi ringrazio per aver seguito il mio vlog. Pace. Quattro milioni di supporte! Incredibile questa community! Grazie, ragazzi! Ok, siamo sicuri che ci siano tutti gli ingredienti? Grazie, Stacy. Ciao, ragazzi! Per la rubrica Prova qualcosa di nuovo di questa settimana, mia sorella Stacy ha voluto lanciarmi la sfida o lo mangi o lo indossi. Non ci credo che lo stiamo facendo davvero! Già, è così. Allora, Stacy ha messo gli ingredienti in questi tre barattoli. Ora, io devo decidere se mangiare tutto in un solo unico boccone o se indossare il contenuto versandomelo sulla testa. Pronti? Cominciamo! Uno. Oh, è sugo per la pasta! Adoro il sugo! Questo me lo mangio! Molto buono! Grazie, Stacy! Due. Ok, beh, sembra una bibita. E sa di salsa di soia. È salsa di soia al Seltz! È stata Chelsea a prepararlo! Vabbè, sicuramente non intendo indossarlo, per cui credo che lo berrò. Ma devi giurarmi che Chelsea non salterà fuori per farmi spaventare e farmelo uscire di nuovo dal naso. Lo sto bevendo! Ci siamo! Boo! Chelsea, lo sapevo! Va bene, passiamo all'ultimo. Questo è verde. E non riesco a capire cosa sia. Visto che è verde e non ho idea di cosa può essere, non credo che lo mangerò, per cui... Temo che lo indosserò. D'accordo. Vado! Com'è freddo! Bene! Ciao! Grazie di aver seguito la sfida, o lo mangi o lo indossi! Tace! Stacy, mi passi un asciugamano? Cosa یہ è la sfida. Sì, mi passi un asciugamano? Grazie.